Terzo furto con spaccata nel giro di pochi mesi al negozio Cialde Cialde di Via Galcianese. Questa mattina verso le 5 la vetrina è stata spaccata per rubare 500 euro di fondo cassa, ma il danno è di almeno 1000 euro. Il terzo furto nel giro di 6-7 mesi, uno a settembre, uno a fine ottobre e l'altro stanotte. Probabilmente la solita persona che toglie un tombino di questi che c'è sulla strada, gli dà un colpo forte e nel giro di 30 secondi, più o meno, arraffa quello che c'è e se ne va. Il furto è stato scoperto intorno alle 7.30. Il filmato della telecamera interna sarà consegnato alle forze dell'ordine per cercare di identificare il ladro che, agendo sempre con la stessa modalità, potrebbe essere l'autore di tutti i furti con spaccata avvenuti nel negozio. Più controlli, soprattutto nella zona qui di Via Galcianese, che non essendoci abitazioni la notte è veramente terra di nessuno.